Greenset è la superficie migliore per il miglior tennis, utilizzata nella maggior parte dei tornei ATP e WTA in più di 15 paesi per la Coppa Davis e la Fat Cup. Arricchisci il tuo club con la superficie dei campioni e offri ai tuoi soci l'emozione di un campo unico, come quello del Master di Londra 2009. Rimarranno conquistati dall'eccezionale comfort di gioco e tu saprai di aver fatto un ottimo investimento per te e per il tuo circolo. E se hai un campo da ristrutturare, Greenset è la scelta giusta. Greenset, the best surface for the best tennis.